Un saluto a tutti e bentornati su Zanat Factor Rieccoci su Variant Hearts Al momento siamo con Freddy, Reims in Francia Cane, si stanno bombardando Devo salire Andiamo a raggiungere il Borone von Dorf Mamma mia ragazzi Che culo Forse siamo alla resa dei conti Di già Ma va, è impossibile Vai cane, vai Bravo cagnolone Qui Devo salvare il bambino Mi piaceva un bambino Forse stava morendo Ah la bambina Ok, è noi Non salire Oh ho trovato un collezionabile Ok qua serve la cosa Eh un attimo Ho di capire io cosa devo fare Ok, hai Aspetta, no! Vieni qua! Possiamo tirarlo su... Perfetto! Eh, guarda! Bravo cagnolone! Prego, eh! Adesso vi spiego perché mi sto facendo tirare su Invece qua! Un collezionabile Ok Ora Ok, abbiamo preso le tenache Saliamo Aiutare quello che stava morendo bruciato Ehi Vieni qua! Ehi Di Vieni qua! C'è anche la stagione Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! No ragazzi, li abbiamo presi quasi tutti, dai. Ok, qua li abbiamo presi tutti. Ok. Grazie a tutti. Un bambino là non si può aiutare, è la che piange. Prendiamo giù un bambino. Impolizionabile. Tra di tutti ragazzi, è una volta scommosso. Ah no, eh, dobbiamo salire. Impirla. Basta il bombardamento. Non lo manco. Che sta succedendo qua? Oh, è una volta che c'è. Oh, no. Oh, no. 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 No No, ho sbagliato Oh, forse è morto Non è morto Freddi Vai Freddi Merda, qua? No Non so dove prenderle Ma questa, questa la devo prendere ecco, vedi? No Ok ogni volta che le lancia una è mia Ok Questa è mia Ok Ok Questa è andata Un'altra è andata, bella Pfff Sto solo sopravvivere ora No, ok, ci abbiamo fatta Dai, scappato No 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 Ma Anna studiava per diventare veterinaria prima dello scoppio della guerra. I tedeschi erano a 30 chilometri da Parigi quando ricevette una lettera del padre. Era in buona salute, ma le implorava di non tornare in Belgio fino alla fine della guerra. Tuttavia, la pazienza non era fra le virtù di Anna. Ok, bene ragazzi, direi che per questo video è tutto. Abbiamo fatto schiantare lo Zeppelin e ora siamo nei panni di Anna, quella ragazza che ci stava aiutando a trovare lo Zeppelin del barone von Dorf, nove mesi prima dello scoppio della guerra. Spero che questo video vi sia piaciuto. Salute a tutti e alla prossima puntata.